Eccoci quindi qui ragazzi allora, benvenuti in questo secondo video giornaliero dedicato come sempre al calciomercato parliamo per la seconda volta in pochi giorni di un nuovo nome per quanto riguarda la porta giallorossa ovviamente come titolare, questo ci fa capire quanto sia stato altalenante il rendimento di Paolo Lopez nella sua prima stagione in giallorosso praticamente stanno facendo il toto portieri per decidere chi dovrà prendere il suo posto neanche con Olsen è successa una cosa del genere, comunque a parte gli scherzi sto parlando in questo video come avrete letto dal titolo del portiere Cragno attualmente in forza al Cagliari che lo ha considerato sempre incedibile ma di fronte ad un'offerta importante soprattutto a delle contropartite che la Roma può in questo caso offrire potrebbe valutare la sua partenza rimane un affare complicato perché comunque la volontà iniziale del giocatore è di restare a Cagliari però la Roma sta provando a intavolare una trattativa per capire se ci possono essere le condizioni per portare il giovane portiere italiano nella capitale io inizio subito col dire che sono un grandissimo estimatore di questo portiere e adesso qualcuno dirà eh ma tu speri sempre che quelli che vengono accostati alla Roma vengano cioè tu qualsiasi giocatore viene accostato è forte non pensi mai che sia scarso a parte che non è assolutamente vero perché ci sono dei giocatori che non vorrei vedere alla Roma pur accostati ai nostri colori al tempo stesso però ammetto tranquillamente che Cragno è a parer mio uno dei maggiori prospetti italiani in circolazione non voglio esagerare ma dopo Donna Roma e pochi altri c'è lui per quanto riguarda la porta la porta italiana Cragno in questi ultimi anni è stato in assoluto uno dei valori aggiunti della porta del Cagliari e quest'anno ha giocato un po' meno per via dell'infortunio che lo ha costretto fuori e al suo posto è stato messo Olsen che non ha fatto neanche tanto male finché ha giocato come titolare e proprio Olsen potrebbe essere il punto di svolta per quanto riguarda la trattativa che porterebbe appunto Cragno a diventare il titolare della Roma questo perché con l'arrivo di Di Francesco sulla panchina sono tanti i giocatori che potrebbe riportarsi a casa tra virgolette e che la Roma potrebbe appunto utilizzare per abbassare il costo del cartellino del portiere io per quanto ancora non siano cifre vere per quanto riguarda il calciomercato il primo calciomercato della Roma di Frid che in dubito che verrà fatta una spesa folle tra virgolette per quanto riguarda il reparto del portiere visto che già l'anno scorso l'hai fatta folle e io tuttora non capisco perché abbiamo dovuto spendere quasi 30 milioni non 30 milioni ma quasi per un portiere che sostanzialmente non vale la metà di quelli che sono in Italia e non vuoi attaccarlo pesantemente ma sappiamo tutti quanti che è così se un 37enne italiano secondo portiere ci dà più sicurezza vuol dire che qualcosa non va e quindi a parer mio un acquisto come Cragno permetterebbe alla rossa giallorossa di poter avere un miglioramento sostanziale per quanto riguarda l'intero reparto difensivo Cragno si è dimostrato in questi anni un portiere molto affidabile bravo nei riflessi bravo anche per quanto riguarda i tiri dal dischetto o sicuramente meglio del povero Paolo Lopez che non ne ha intuito mezzo uno l'ha parato sempre a Cagliari guarda caso e poi è stato comunque ribattuto a rete e quindi sarebbe sicuramente un miglioramento rispetto alla situazione attuale quali sono però le eventuali contropartite che la Roma potrebbe offrire a Cagliari? si sta parlando per l'appunto di Olsen che comunque finché ha giocato titolare a parer mio ha dato un buon rendimento dimostrandosi un portiere affidabile per questo genere di squadre e non come sostituto di Alisson alla Roma per intenderci quindi uno è Olsen uno è Juan Jesus l'altro è Riccardi della Primavera poi si sta parlando anche di un possibile inserimento di Florenzi ma credo che la squadra più vicina al giocatore se la Roma appunto deciderà di cederlo è l'Atalanta almeno questa è la mia impressione poi potrò sicuramente sbagliarmi però io credo che l'Atalanta visto la qualità del gioco e visto come effettivamente gioca in campo e come viene messa da Gasperini credo che sia la squadra più vicina al prendere Sandrino però sappiamo che il mercato cambia velocemente quindi ora può essere una cosa e domani può esserne un'altra ma per quanto riguarda Olsen, Jesus e Riccardi io credo che adesso non so se tutti e tre verranno inseriti nell'affare però io credo che per il Cagliari non sarebbero dei cattivi giocatori qualcuno dirà madonna ma che ci fanno con Jesus con Olsen Riccardi che non ha mai giocato in prima squadra allora innanzitutto per quanto riguarda Riccardi io aspetterei a giudicarlo così male perché è vero che la Roma non ha mai trovato spazio ma non è detto che in una squadra con meno aspettative non riesca a fare bene cioè molti danno per scontato questo ma non è assolutamente vero per quanto riguarda Olsen e Juan Jesus io non penso che siano dei giocatori scarsi ovvio a Roma hanno regalato più dolori che gioie su questo siamo d'accordo ma ci sono diversi fattori da considerare innanzitutto il Cagliari ha meno aspettative per quanto riguarda il campionato a loro basta rimanere nella parte sinistra della classifica magari provare a rimanere in zona Europa ma non è proprio questo il momento e due giocatori di questo tipo sono comunque di esperienza cioè Olsen ha dimostrato già col Cagliari di essere un buon portiere Juan Jesus potete dirmi tutto quello che vi pare ma per una squadra di centro classifica va benissimo va benissimo cioè Juan Jesus ha fatto sì cose negative soprattutto in questi ultimi anni ma è anche riuscito a fare prestazioni positive adesso tutti mi citeranno la partita in cui ha fermato Messi ma io credo che in quella partita in quel Roma-Barcellona erano talmente galvanizzati che ci sarei potuto stare io in difesa e avrei comunque fermato Messi per farvi capire un po' com'era la situazione in quel momento non per denigrare la sua prestazione ma avete capito quello che intendo e quindi per me sarebbero comunque due giocatori che valutati il giusto potrebbero aiutarci ad abbassare il cartellino di Cragli Cragli in questo momento è valutato all'incirca sui 20-25 milioni 25 milioni proprio a esagerare perché comunque rimane sempre un portiere e non un giocatore di movimento e per questo motivo gli eventuali inserimenti di Olsen e Juan Jesus potrebbero a parer mio abbassare il cartellino di circa 10 milioni cioè perché comunque Juan Jesus sui 4 milioni può valerli 4 milioni 4 milioni e mezzo Olsen che appunto è stato bravo a Cagliari 5 milioni 5 milioni e mezzo non li potrà valere cioè a parer mio li può valere tranquillamente quindi già se tu riesci a piazzare questi due giocatori che per loro andrebbero tranquillamente bene sia chiaro a parer mio e in più ad abbassare il costo del cartellino di Cragli e prenderti un titolare di sicuro affidamento sarebbe veramente un affare clamoroso poi comunque ne parlerò meglio nel video dedicato al mercato che fare per la Roma però in generale questa operazione permetterebbe al Cagliari di avere comunque i soldi del cartellino di Cragli più un portiere titolare affidabile e magari non giovanissimo ma comunque di livello per quanto riguarda loro e un difensore centrale che conosce il campionato e darebbe esperienza poi eventualmente verrebbe inserito anche Riccardi quindi comunque l'affare per me non è impossibile fermo restando che è difficile è difficile anche perché la Roma dovrà ancora capire bene quanti soldi utilizzare e per chi e soprattutto quale dovrà essere il DS che gestirà le manovre però al tempo stesso io reputo l'affare comunque fattibile se la Roma appunto deciderà di puntare su di lui e supererà tutte le concorrenti per questo portiere poi ci sono anche altri nomi che ho già analizzato si parla di Sirigu si parla di Meret che a quanto pare potrebbe essere inserito in una mega trattativa che vedrebbe cosa che io non farei perché io di Veretù non mi priverei mai attualmente mai soprattutto se dovesse rimanere a Fonseca e quindi comunque la situazione è ancora un po' un punto interrogativo io di tutti i nomi fatti reputo Cragno il migliore dal punto di vista dell'età delle potenzialità e del valore attuale e considerando appunto la presenza di Di Francesco sulla panchina rosso-blu potremmo anche appunto essere favoriti sotto questo punto di vista adesso non è che Di Francesco ci deve fare un favore però se si vuole prendere dei giocatori che a noi non servono più ma che a loro potrebbero portare esperienza per quanto riguarda porta e difesa io sono d'accordo ci mancherebbe adesso molti diranno ma ti pare che accetteranno però rimangono sempre i Cagliari con tutto il rispetto quindi non è che degli scarti nostri diventeranno scarti anche loro cioè ad esempio la Roma quanti scarti della Juve potrebbe prendersi cioè un Rugani in panchina non se lo potrebbe prendere un Higuaín in panchina per dire qualche nome cioè gli scarti delle squadre più forti non sempre sono delle pippe anche in squadre minori cioè per loro possono essere comunque dei valori aggiunti comunque vedremo un po' come si evolverà la trattativa ma a parer mio Cragno sarebbe il migliore acquisto per quanto riguarda la porta e a parer mio comunque Paolo Lopez si cercherà di piazzarlo cioè nel senso comunque indipendentemente da Cragno o no io penso che la Roma cambierà il portiere titolare perché ha dimostrato in questa annata di non dare nessuna tranquillità ma non solo dal punto di vista dei riflessi ma anche sul controllo palla con i piedi perché la tattica di Fonseca è semplice giocare la palla con i piedi dal portiere l'abbiamo visto non so voi ma ogni volta che toccava palla lui mi cagavo addosso perché ci mette cento anni per i bimbi cento anni per i passaggi e non è neanche tanto preciso perché ricordo che col Ghent all'andata sbagliò quasi tutti i bimbi quasi tutti infatti lo considerai uno dei peggiori in campo quindi sinceramente io penso che comunque se dovesse partire non mi strapperei certo i capelli anche magari di fronte ad una cifra inferiore rispetto a quella con il quale lo hai acquistato si parla di Schalke 04 Bayer Leverkusen comunque queste squadre tedesche e spero con tutto il cuore non me ne voglia lui e i suoi estimatori ma spero che comunque l'affare vada in porto perché tutti i nomi fatti finora per sostituirla a parer mio sono migliori sia Meret sia Cragno sia Sirigu eccetera eccetera e comunque essendo italiani potrebbero anche comunicare meglio col reparto difensivo cosa che appunto ha mostrato Milanti nelle poche volte che è stato che è stato messo in causa quindi a parer mio chiunque venga di questi nomi per me sarebbe un miglioramento rispetto alla condizione attuale comunque ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate dell'accostamento di Cragno ai colori giallorossi chi offrireste al Cagliari e quanti milioni gli dareste per portarci alla casa e in ultimo faccio questo piccolo sondaggio scrivetemi chi preferireste tra Cragno Meret e Sirigu sono gli ultimi tre nomi che ho letto sul giornale quindi ditemi tra questi tre quali vorreste sulla porta giallorossa oppure se addirittura preferireste dare un'altra chance al portiere Paolo Lopez un saluto e ci vediamo presto per un altro video ciao ragazzi a Grazie per la visione!